Il cristiano non è isolato, appartiene al popolo di Dio. Il mio nome è Sono Cristiano, il mio cognome appartengo alla Chiesa. Sul tema dell'appartenenza si è così sviluppata con queste frasi la catechesi di Papa Francesco all'udienza generale di oggi. Dobbiamo essere grati, ha detto il Papa, a coloro che ci hanno preceduto e portato nella fede, perché nessuno diventa cristiano da sé. Se noi crediamo, se sappiamo pregare, se conosciamo il Signore e possiamo ascoltare la sua parola, se lo sentiamo vicino e lo riconosciamo nei fratelli, è perché altri prima di noi hanno vissuto la fede e poi ce l'hanno trasmessa e ce l'hanno insegnata. La Chiesa è così nei fatti, ha insistito il Papa, una grande famiglia nella quale si viene accolti e si impara a vivere da credenti e da discepoli del Signore Gesù. Soprattutto è un grande insieme di persone che camminano. C'è poi chi ritiene di poter avere un rapporto personale, diretto, immediato, con Gesù Cristo, al di fuori della comunione e della mediazione della Chiesa. Queste, ha detto il Papa, sono tentazioni pericolose e dannose, sono dicotomie assurde. È vero che camminare insieme è impegnativo e a volte può risultare faticoso. Può accadere che qualche fratello o qualche sorella ci faccia problema o ci dia scandalo. Ma il Signore ha affidato il suo messaggio di salvezza a delle persone umane, a dei testimoni. Ed è nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle, con i loro doni e i loro limiti, che ci viene incontro e si fa riconoscere. E questo, ha concluso il Papa, questo significa appartenere alla Chiesa.